Ciao, sono Liborio, ho 28 anni e faccio parte di ACMOS, un'associazione di giovani nata a Torino, in barriera di Milano, che promuove esperienze educative per diffondere la cultura della partecipazione attiva e della legalità. Entrando in casa ACMOS troverete questa frase Se si sogna da soli è solo un sogno, se lo si fa insieme è l'inizio della realtà. Perché vogliamo costruire un mondo dove valga la pena cercare il proprio posto, un mondo giusto, solidale e sostenibile. Abbiamo infatti scelto di fare della sostenibilità uno dei nostri capisaldi, perché non può esserci giustizia sociale senza giustizia ambientale e climatica. Secondo il Global Footprint Network l'umanità utilizza il 60% di risorse in più di quanto la Terra possa generare. In pratica è come se ogni anno consumassimo un pianeta e mezzo. Questo momento è rappresentato simbolicamente dall'Overshoot Day, una data che di anno in cade sempre prima. Come giovani di ACMOS vogliamo fare la nostra parte per invertire la rotta di questo trend, organizzando un festival che permetta di riflettere e conoscere buone pratiche in grado di trasformare i pensieri di sostenibilità in azioni concrete, non solo del singolo individuo, ma dell'intera collettività. Nei tre giorni in Overshoot Fest vogliamo portare queste tematiche all'attenzione delle cittadine e dei cittadini, creando legami sul territorio per scrivere insieme una nuova storia. Organizzeremo dibattiti, laboratori e performance nei giardini Saragat, uno dei polmoni verdi di Barriera di Milano, coinvolgendo tutte le fasce d'età in una narrazione popolare, perché diventi una scelta accessibile a tutti e tutti. Parleremo di cibo buono, sano e popolare, abbigliamento e riutilizzo sostenibile utilizzando i linguaggi dell'arte, della cultura e della condivisione e dialogando con istituzioni, organizzazioni del terzo settore, B Corporation e comitati civici, perché si tratta di una sfida da vincere insieme. Sogni e credi in un futuro sostenibile? Fai anche tu la tua parte! Dona ora su Eppela, perché solo grazie al contributo di ognuno potremo organizzare il Novershoot Fest in Barriera di Milano, perché crediamo che la sostenibilità debba e possa essere una scelta di tutte e tutti, a partire da Barriera di Milano. Grazie. 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 Grazie.